Dal punto nascita di Polla un primo gennaio di liete notizie con la nascita di due bambini che sono anche messaggio di speranza e di nuovo inizio per questo anno 2021. Il nuovo anno si era affacciato da poco mentre nelle case ancora si festeggiava per la fine di un anno terribile come il 2020 e l'arrivo dell'anno della rinascita ed ecco che nel reparto di ostetrice e ginecologia del Luigi Curto di Polla si sentiva il primo vagito di una bambina che a luna e 45 è venuta al mondo per la gioia della mamma di Padula. Una notizia che ha emozionato e rallegrato tutto il Vallo di Diano che nella piccola ha visto anche il segno di speranza atteso. La piccola a cui i genitori hanno dato il nome di Francesca Pia del peso di 2,8 kg è venuta al mondo assistita dal dottor Salvatore Guercio e dall'ostetrica pugliese. Nella stessa giornata il punto nascita di Polla festeggia l'arrivo anche di un altro bebè, questa volta un maschietto di sala con Silina di nome Michele. Alle ore 22 e 50 infatti il piccolo dal peso di 3,30 kg è venuto al mondo per la gioia dei suoi genitori e della comunità valdianese. Prime ore dell'anno nuovo con notizie positive per il reparto diretto dal dottor Francesco De Laurentiis che può tracciare ora un bilancio piuttosto soddisfacente dell'anno appena trascorso seppur caratterizzato dalla crisi e dalle difficoltà del covid. In totale nel 2020 sono 330 bambini nati presso Luigi Curto di Polla in netta controtendenza rispetto ad altri punti nascita con una percentuale che si aggira tra il 10 e 15 per cento in più rispetto agli altri dove il calo demografico si è fatto sentire. Un aumento che si registra nonostante nel corso dell'anno è stato necessario di rottare verso altri ospedali circa una quarantina di parti a causa delle chiusure imposte dal covid oppure perché si trattava di parti prematuri quindi venute al mondo prima della 34esima settimana per i quali risultava necessario ricorrere alla terapia intensiva neonatale che non è presente presso l'ospedale di Polla. Un grande lavoro dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia diretta dal dottor De Laurentiis ottenuto nonostante le difficoltà derivanti dal ridotto numero di personale operante nel reparto visto il pensionamento di ben 5 medici mai sostituiti.